Fratelli carissimi, oggi possiamo incontrarci con Gesù Cristo, incontrare nel suo sguardo la nostra realtà, la nostra debolezza, questa donna che appare nel Vangelo, questa donna sorpresa, un flagrante adulterio sei tu e sono io, è il popolo di Israele, è la sposa infedele, è adultera, perché idolatra, come te, come me. Alla base di ogni adulterio c'è un peccato più profondo, l'adulterio è soltanto una manifestazione esplicita, carnale, passionale di una morte che è già sopraggiunta nell'anima, nel cuore. Chi ha tagliato con Dio perché è stato ingannato dal demonio e perché non ha potuto sopportare la sua vita, la sua realtà, le sofferenze, i problemi, l'inadeguatezza del marito, per esempio, la sua superficialità, il fatto che non abbia più attenzioni per lei, che tutto è diventato rutinario, che non ce la fa più. Una donna, una donna qualsiasi, che molte volte vive questo nel suo matrimonio. È la stampa, la cultura, le amiche e il demonio. Continua a insinuare, giorno dopo giorno, non puoi vivere così, non è degno di te questa vita. Tu fatti valere, non sei più donna, non sei guarda, guarda, sei sul loro della depressione, eccetera, eccetera, e alla fine cede, come cedi tu, di fronte alla tua vita, alla tua storia, di fronte ai fatti, che ti umiliano, di fronte alle situazioni più difficili, di fronte a quel problema col figlio, di fronte al problema sul lavoro, di fronte alla sofferenza. La solitudine, di fronte alla fatta che non ti sei mai sposata, di fronte alla malattia, di fronte alla vecchiaia, di fronte a un cancro, di fronte alla morte della persona cara. Questa vita non è degna di te. Tu meriti qualcosa di più. Fatti Dio. Se decidi di farti Dio, hai tagliato col Dio vero. Non puoi avere un altro Dio dentro di te. Lo butti fuori. Per questo ti trovi schiavo della superbia. Chi adultera, chi vive, chi si unisce a un amante, non si unisce all'amante. Quella è soltanto passione, è qualcosa a livello di pelle. Chi si unisce a un amante si unisce con se stesso. Cerca la soddisfazione del proprio ego. Cerca la vittoria del proprio ego su tutti gli altri, in faccia a Dio. Per questo è già morto. Per questo rompe l'alleanza. Per questo rompe la comunione nel popolo. Per questo doveva essere lapidato. Una donna così doveva essere lapidata perché la lapidazione decretava pubblicamente ciò che già era avvenuto interiormente. Ebbene, questa donna, come te, come me, si trova al limite estremo della sua vita. Proprio al confine tra la vita e la morte. Ebbene, il fatto di dover essere strumenti di accusa contro Gesù Cristo, attenzione, che questo è quello che accade tutti i giorni a noi, tutti noi. Usiamo la nostra vita, anche i nostri peccati per accusare Gesù Cristo. Che non esiste l'amore, che è tutta la pregatura. Proprio questo la salva. Perché Gesù Cristo, attraverso di lei, chiama a conversione tutti. Chiama a conversione quelli che sono esattamente identici a lei. Lei immagina di quegli uomini, è il loro specchio. In lei si coagula tutta la storia di Israele, una storia di infedeltà e di adulteri. Che cosa fa Gesù Cristo? Non dice una parola. Si mette a scrivere. Nel Talmud c'è un trattato proprio sulla donna adultera, per cui il sommo sacerdote, il sacerdote che sia, doveva scrivere su una pergamena con un inchiostro facilmente cancellabile, non su uno strumento duro come la pietra e nemmeno usando un inchiostro indelebile. Doveva essere qualcosa facilmente cancellabile e facilmente deteriorabile. Perché quel documento che ogni volta andava scritto, enumerando anche i peccati e le circostanze dell'adulterio, doveva poi cancellarsi completamente nelle acque amare. Le acque amare che le donne adultere, o in odore di adulterio, dovevano bere. Se bevendo questa bevanda velenosa, amara, morivano, vuol dire che erano adultere. Se fossero passati indenni, vuol dire che non erano adultere. Ecco, Gesù Cristo scrive questo documento di condanna sul supporto, per così dire, più fragile, più sfimero che ci sia per terra. Perché? Perché lui l'aveva già cancellato nel suo sangue. La parola di oggi è una protezzia. Questa donna, di fronte alla morte, incipiente, il passato come i cari del Faraone, che la inseguivano, e il futuro che era soltanto un mare, cioè un sepolcro aperto, pronto ad accoglierla, ma in questo momento Israele, cioè questa donna, fa di nuovo l'esperienza della Pasqua, ma è la Pasqua definitiva, è la Pasqua che apre per lei una cosa nuova. Non te ne accorgi, questo accade per te, oggi, una cosa completamente nuova. Tu, come dice San Paolo, sei una creazione nuova. Basta la tua giustizia, i tuoi meriti, basta le tue idee, basta il tuo ego, che si compie con la religione, che si compie con la politica, che si compie con quello che sia. Basta! Tutto è spazzatura, tutto è in puro impedimento, sterco, dice San Paolo. Una spazzatura. Mi fa male. Io voglio solo essere trovato in Cristo, come questa donna. Questa è l'esperienza della Pasqua, che oggi è profetizzata per te e per me, che è la vera esperienza di ogni cristiano, senza la quale non si è cristiani, fratelli. Essere lì davanti a Gesù Cristo, e vedere che Gesù Cristo scrive i nostri peccati sulla polvere, perché il vento se la porti via, perché il suo sangue li cancella, il documento che ci accusava, dice San Paolo, è stato inchiorato alla croce, non esiste più. Cristo ti aspetta sulla croce. Ha preso la stessa carne, la stessa polvere. Come tu sei fatta di polvere, io sono fatto di polvere. Come questa donna, Dio conosce la nostra debolezza, per questo invia oggi. Il suo figlio Gesù Cristo, nella stessa carne, con la stessa debolezza, per passare lui indenne attraverso la morte, che è la giusta condanna per il nostro peccato di egoismo. La prende lui. Ecco, questa donna si incontra proprio faccia a faccia con questo uomo, che prende i suoi peccati su di sé, che muore per lei. E per questo le può dire, non ti ha condannato nessuno? No, nessuno, che senza peccato scagli la prima pietra, che non è adulto e che possa uccidere allora. L'unico che poteva scagliare la pietra era lui. E lui invece ha scritto. E sulla stessa polvere che è la nostra vita, che è la nostra carne, i peccati e la legge. Ha scritto di nuovo la parola che dà vita, la volontà di Dio in te. Lui sa che sei una creatura fatta di terra, che sei un vaso di creta, che io sono un vaso di creta, lo sa perfettamente. Ma quando questo vaso di creta è trovato in Cristo, quando in questo vaso di creta è presente Cristo, allora tutto è nuovo. Il passato già non esiste. Il futuro è meraviglioso. Il futuro è il cielo. Il futuro è oggi. Il futuro è in questo momento. Si anticipa oggi. Il futuro è trovare Cristo nella propria vita. Essere plasmati da Lui per poter dare lode a Dio. E la lode è più pura, la lode più autentile, quella di chi ha scampato alla morte, di chi ha fatto Pasqua con Cristo, di chi ha conosciuto la sua misericordia. Coraggio. Questa è la parola che ci prepara la vaso Cristo. Tu e Cristo soli, in questa intimità profonda, dove Lui ti dice che ti ama. Ti ama infinitamente. Conosce le tue debolezze, conosce le tue sofferenze, conosce le sofferenze a causa dei tuoi peccati e ti viene a liberare oggi, cancellando tutti i tuoi peccati e dandoti la sua stessa vita per non peccare più.